Dietro lo dissede migranti e dietro le continue operazioni di salvataggio in mare si intrecciano storie di morte ma anche di vita. È il caso di una donna nigeriana al nono mese di gravidanza che ha dato alla luce un bambino su una motovedetta della guardia costiera diretta verso il porto di Lampedusa, dopo essere stata soccorsa a largo delle coste libiche con altri 104 migranti. Sia la mamma di 24 anni che il neonato, che pesa circa 3 kg, stanno bene. Sempre più spesso dei bambini diventano protagonisti il loro malgrado e le cronache dell'immigrazione clandestina. Il 27 agosto scorso, dopo il salvataggio di un gommone, una madre era riuscita prima di morire schiacciata a far scudo con il proprio corpo alla sua bambina di appena un mese. La piccola è oggi ospite in una comunità di minori a Palermo. Nelle ultime operazioni di salvataggio, guardia costiera e guardia di finanza hanno recuperato il cadavere di un migrante e sono riuscite a mettere in salvo le 91 persone a bordo di un gommone semi-affondato. In queste ore nella zona sono andate avanti le ricerche per trovare eventuali dispersi. Secondo i migranti a bordo erano in 115 e quindi ne mancherebbero l'appello 23. Ad agosto intanto oggi sono arrivati 394 migranti. Il presunto scafisto in Tunisina è stato arrestato. Sbarco anche al porto di Messina, dove sono arrivate 838 persone.